La città di Taranto si trova nella blacklist delle sedi che la Banca d'Italia intende chiudere, ipotesi che configurerebbe l'ennesimo schiaffo alla città. Lo scrive il sindaco del capologo Ionico, Ipazio Stefano, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il primo cittadino chiede un interessamento diretto per scongiurare la paventata chiusura della filiale della banca, punto di riferimento per la fornitura di servizi di qualità e presidio di legalità. Una seconda lettera è stata inviata al governatore Ignazio Visco. Stefano invita a un attento riesame della possibilità che la filiale di Taranto non sia oggetto di chiusura e che piuttosto siano riassegnate funzioni di gestione del contante. Un capitolo a parte potrebbe essere rappresentato, spiega ancora Stefano, dalla eventualità che proprio alla filiale di Taranto siano assegnati i controlli sugli ingenti flussi finanziari che deriveranno dal risanamento ambientale della città. Il sindaco fa presente che l'area di riferimento parte dalla costa adriatica e abbraccia l'intero golfo di Taranto, giungendo a ricomprendervi parte della Calabria, essendo già venuti meno i presidi a est di Brindisi e ovest di Matera.